La nazionale italiana non andrà in Russia? L'Ecco si consola con la sua piccola Coppa del Mondo. Inizia sabato 26 maggio, l'Ecco è mondiale, prima edizione del torneo di calcio che coinvolgerà ragazzi migranti di varie nazionalità, ospiti nei diversi centri di accoglienza del territorio o residenti già da tempo in città, che sognano di emulare le gesta di campioni come Momo Salah o Khalidou Koulibaly. L'iniziativa coinvolgerà oltre 200 giocatori, suddivisi in base al paese di provenienza, e in 12 squadre che si affronteranno divise in 4 gironi all'italiana da 3, in partite di sola andata. I raggruppamenti saranno così composti, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau ed Eritrea nel girone A, Togo, Burkina Faso e Italia nel girone B, Sierra Leone, Camerun e Mixed World, squadra composta dai richiedenti asilo ospiti nell'ex convento di Magianico, nel girone C, e Gambia, Marocco e Benin nel girone D. Le fasi a gironi si giocheranno nei weekend del 26 e 27 maggio e del 2 e 3 giugno presso il campo di Rio Torto a Valmadrera. Le squadre vincenti accederanno poi alle semifinali del 3 giugno alle 14.30 che si terranno sempre a Valmadrera. Le finali si disputeranno invece domenica 17 giugno presso il campo sportivo comunale di Osnago dalle 14.30. In palio per i vincitori del torneo ci sarà un kit, maglia, pantaloncini, calzettoni di 18 divise personalizzate, con lo scudetto ideato appositamente per la manifestazione e il logo dello sponsor. Le realtà promotrici sono numerose, la cooperativa L'Arcobaleno, la Caritas di Canale e di Lecco, la pastorale missionaria Immigranti, la Casa sul Pozzo, l'Avis e l'Anolf Cisle di Lecco, tutte realtà impegnate in accoglienza e attive nell'ambito della solidarietà verso gli ultimi. L'idea del torneo nasce dal desiderio di promuovere l'inclusione e la conoscenza di altre culture attraverso un linguaggio universale come quello del calcio, che è seguito da milioni di persone in tutto il mondo, spiegano gli organizzatori. Lo sport inoltre può rappresentare l'occasione per migliorare la relazione tra persone, far crescere tutti nei valori del rispetto reciproco, della lealtà e dell'amicizia. L'iniziativa rientra tra le azioni della campagna Shared Journey, sull'incontro tra culture promossa in diocesi di Milano da Caritas Ambrosiana.